Qui a H107. Intervengo. Sono un agente del Commonwealth. Ash Harper, ti dichiaro in arresto. Siete state giudicate traditrici del Commonwealth. Verrete esiliate in una struttura detentiva subalpita. Sguardo avanti! Nessuno si muore. Dobbiamo arrivare su Arcadia. Ucciderò chiunque proverà fermare. Hai sparato al pilota, mamma. Ci avevi detto di non spararli. Beh, è pazza. Che cosa hai detto? Una sottocopertura con delle detenute in fuga. Sei una spia? Qualcosa del genere. Sparate a vista. Ci vengono addosso! Noi non ci nascondiamo. Combattiamo. Fidati di me. C'è un piano per noi. Attenzione! Impatto! Togliamoci dalle palle. Togliamoci dalle palle. Togliamoci dalle palle.